Innesima tragedia sul lavoro in Lombardia, ad Aronapò nel Pavese quattro operai di un'azienda agricola sono caduti in una vasca per la raccolta dei liquami e lì sono annegati. Il bilancio del primo semestre dell'anno è agghiacciante, i decessi sul lavoro sono stati 482, il peggior dal 2016. Il primo giorno di scuola a Milano è stato nel segno dell'ecologia con il comune che ha distribuito 100.000 borracce agli studenti. Il sindaco Sala ha festeggiato la prima campanella in zona Lambrate mentre tiene banco il caso dell'istituto Confalonieri nei pressi di Piazzale Maciacchini dove nei giorni scorsi sono stati rinvenuti topi nelle aule e nei corridoi. Sul futuro stadio di Milano e Inter non c'è ancora la chiarezza auspicata da Palazzo Marino con Sala che ha chiesto di poter vedere i progetti. I club dovrebbero esporre i quattro elaborati o almeno i due che dovrebbero essere finiti al ballottaggio entro il 24 settembre. Boeri fuori dalla corsa a due chiede che la cittadinanza sia coinvolta. Nuova polemica tra il presidente Lombardo Fontana e il governo. Stavolta nel mirino finisce il neoministro per il sud Provenzano. Quella dell'autonomia buona e di quella cattiva è una storia irraccontabile. Attacca l'inquilino di Palazzo Lombardia, il sindaco di Milano replica. È un processo ineludibile ma sul modello si può discutere. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN che si apre con una notizia drammatica, quella di quattro operai che sono deceduti in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto oggi in un'azienda agricola di Arena Po nel Pavese. A renderlo noto è il 118, precisando che gli operai sono annegati in una vasca per la raccolta dei liquami. All'inizio i morti accertati erano due, mentre altri due lavoratori risultavano dispersi. I loro corpi sono poi stati trovati una volta che i vigili del fuoco hanno svuotato la vasca. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell'ASST di Pavia. Ennesimo agghiacente incidente mortale, ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Ora più che mai serve un'azione forte da parte del governo e quindi necessario un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. I numeri parlano chiaro. Nel primo semestre del 2019 ci sono stati 482 decessi a livello nazionale. Il peggior dato dal 2016. A conferma arriva anche la posizione di CGL Cisle Will Lombarde che dicono che dall'inizio dell'anno del 2019 i morti in Lombardia sul lavoro sono già 103. Il 30 settembre i sindacati si ritroveranno sotto Palazzo Lombardia per chiedere anche sicurezza sul lavoro. Un tema molto caro e molto caldo visto quello che è successo anche oggi è importantissimo sul quale ovviamente tutti dovrebbero avere e porre un'attenzione maggiore. Dopo questa notizia di cronaca drammatica che ha ovviamente contraddistinto la giornata odierna. Passiamo alla scuola perché oggi c'è stato il primo giorno a Milano e è stato un giorno contraddistinto da consegna di borracce da l'iniziativa green del sindaco Sala. Era in zona Lambrata e lui sono state oltre 100.000 le borracce consegnate invece in tutta Milano agli studenti. Il servizio di Alberto Carreras. Le campanelle hanno suonato stamane nelle scuole milanesi e lombarde. Il sindaco Giuseppe Sala ha distribuito borracce per contrastare l'utilizzo della plastica usegetta. Presente anche il cantante Marco Mengoni. Il sindaco si è recato alla scuola elementare di via Clericetti in zona Lambrate circondato da bambini e genitori. Sono state 100.000 complessivamente le borracce distribuite nelle scuole elementari e medie cittadine in collaborazione con Metropolitana Milanese e A2A. Giuseppe Sala ha detto che è stato calcolato che ci saranno 30 milioni di bottiglie di plastiche in meno all'anno grazie a queste borracce. Il sindaco ha fatto gli auguri a tutti i ragazzi per l'anno che va ad iniziare. Ovviamente la funzione educativa è al centro anche un po' della rivoluzione sociale che ci deve essere nelle grandi città. Le città sono laboratori sociali nuovi ma dalle scuole bisogna partire. Molto spesso abbiamo la fortuna di avere scuole anche belle come queste. In altri casi sappiamo che c'è da lavorare perché a volte sono edifici che meritano manutenzione ma un po' alla volta andremo avanti. Io non avendo avuto figli in realtà mi sembra di riversare sui bambini in generale il mio affetto quindi non perdo occasione per poter stare in mezzo a loro. Intanto l'anno è iniziato male all'istituto confallonieri di via Benigno Crespi. I genitori hanno protestato per gli escrementi di topi e alcuni eroditori morti nelle aule e nei corridoi rinvenuti nei giorni scorsi. I bambini sono stati tenuti a casa. In una circolare la dirigente ha però affermato che a seguito di un intervento di deratizzazione le elezioni potevano aver luogo regolarmente. I genitori però lamentano che dopo una disinfestazione i locali avrebbero dovuto rimanere chiusi per alcuni giorni. A Milano tiene banco sempre la questione del nuovo stadio di Milano e Inter. Ci sono i progetti, va avanti la gara, si andrà a una sorta di ballottaggio con due proposte sulle quattro che erano state prese in esame. Il sindaco Sala però dice sì ma fatemeli vedere, fateci rivedere a tutti questi progetti, a tutti i cittadini milanesi che vanno coinvolti. Per lo stadio non bisogna discutere solo se abbattere il meazzo oppure no ma bisogna poter vedere i progetti concreti e cosa Inter e Milan pensano complessivamente di tutta l'area di San Siro. Lo ha detto stamane da noi interpellato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Il sindaco ha più volte chiesto ai due club calcistici di rendere partecipe la città dei loro progetti. Vediamo cosa proporranno. Noi siamo in attesa veramente di capire di cosa si sta parlando perché la cosa peggiore è che il dibattito rimanga solamente su abbattiamo o non abbattiamo San Siro che è un dibattito a perdere. Se si vedrà quali sono le reali intenzioni della società, qual è il progetto di stadio, magari le cose cambieranno. Ancora non ci sono notizie ufficiali ma solo indiscrezioni. Nerazzurri e Rossoneri avrebbero effettuato una prima scrematura dei quattro progetti presentati per il nuovo stadio e ne sarebbero rimasti due, quello dello studio di architettura americano Populus e quello dell'italiana CMR. Populus con una grande esperienza di impianti sportivi ha realizzato il nuovo Wembley e lo stadio del Tottenham, sarebbe il favorito. Entro il 24 settembre i quattro progetti, compresi quello dello studio Boeri e dello statunitense Hawke o almeno i due giunti al ballottaggio dovrebbero essere presentati alla cittadinanza probabilmente con una mostra o un allestimento. Il Comune chiede condivisione anche perché Nerazzurri e Rossoneri vorrebbero abbattere il Meazza per realizzare residenze, commerci e servizi e per compensare i costi dell'abbattimento che ammonterebbero a non meno di 45 milioni di euro. Il Consiglio Comunale dovrà dire la sua. La strada sembra ancora lunga e anche in salita. Non è solo il Sindaco, non è solo il Comune a chiedere che questa scelta sia oggetto di un'analisi condivisa anche con i cittadini milanesi, l'ha detto oggi anche l'Archistar Stefano Boeri che come ha confermato anche lui è fuori dalla corsa A2 per il nuovo progetto dello stadio. Sentiamolo. Sarebbe molto bello poter raccontare tutti e quattro i progetti, non solo il Consiglio Comunale ma anche la città. È uno suolo pubblico, è un edificio pubblico, è un pezzo di città fondamentale, abbiamo lavorato tutti pancia a terra per fare il meglio. Sarebbe molto molto bello poter informare i cittadini dei quattro scenari che abbiamo costruito, naturalmente accompagnando col commento delle squadre circa i due favoriti. E una frase sul scenario? Verde, è una parola, verde. Io sono certo che le due squadre capiranno che è molto importante anche per il loro interesse far sì che questo progetto sia veramente partecipato e condiviso, perché il punto è molto delicato. San Siro è nel cuore di tutti noi, siamo legatissimi alla storia, al mito di San Siro. Io per primo ho lavorato su San Siro come architetto per anni. Ora se vogliamo fare qualcosa di nuovo bisogna pensare di fare qualcosa veramente nuovo. Quindi è un passaggio importante che per forza deve vedere coinvolto i cittadini e tutte le energie culturali della città. Riapriamo la pagina della cronaca del nostro telegiornale. Sono state 18 le misure cautelari eseguite dai NAS di Cremona nell'ambito dell'operazione denominata DAWA, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cremona. L'ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è quella di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, furto e commercio di farmaci imperfetti. Diversi gli episodi che hanno messo in allarme i militari. Nel febbraio 2018 a Crema i NAS sequestrarono un plico destinato alla Francia, a Parigi, in realtà contenente 99 confezioni di farmaci ad alto costo e ad uso esclusivo e ospedaliero per un valore di 103 mila euro. Nel maggio 2018 tra le province di Cremona e Lodi vennero sequestrate 504 confezioni di un altro medicinale oncologico. Le verifiche condotte hanno consentito di stabilire che la merce proveniva da furti commessi negli ospedali di Termoli e di Napoli, oltre che in una farmacia di Catanzaro. I NAS hanno quindi ricostruito la filiera del mercato illegale dei farmaci. Dei ricettatori egiziani inviavano la rifurtiva verso l'Europa, ma anche verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Si trattava di farmaci guasti che venivano consegnati a medici e pazienti. Questa è la tesi dell'accusa. Un colpo di pistola è stato esploso da 5 ladri sorpresi dai carabinieri a svaliggiare la galleria di Peschiera Borromeo. Nella fuga a bordo di una BMW scura a fari spenti hanno prima speronato la Fiat Punto dell'arma, poi hanno tentato di investire un militare della stazione di Peschiera che era sceso dalla vettura. Il carabiniere si è lanciato sull'erba per evitare l'impatto e ha risposto al fuoco sparando due volte. L'auto è riuscita a fuggire con le 5 persone col volto coperto dal passamontagna. L'episodio è avvenuto all'alba di oggi. I ladri hanno portato via materiale tecnologico del valore ancora da quantificare. Non si registrano feriti, per fortuna, sul posto. Non erano però presenti telecamere utili alle indagini. La Cassazione ha annullato la condanna a tre anni per Roberto Piazza. La guardia giurata è in servizio al Palazzo di Giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone, Giorgio Erba, Lorenzo Clari Sappiani e Fernando Ciampi. Adesso Piazza dovrà essere nuovamente processato davanti alla Corte d'Appello di Brescia, come disposto dalla Cassazione. Assolto in primo grado dal Tribunale di Brescia, Piazza era stato condannato dalla Corte d'Appello Bresciana a tre anni perché, per l'accusa, non aveva fermato Giardiello all'entrata del Tribunale, nonostante dai monitor si notassero delle macchie scure nella borsa che l'uomo aveva con sé e l'aveva condannato anche al pagamento di una provvisionale complessiva per otto parti civili di un milione e settantamila euro. Giardiello, invece, è stato condannato all'ergastolo, sentenza poi confermata anche dalla Cassazione. Un 36enne è stato arrestato dalla polizia per il possesso di tre chili di marijuana che trasportava nel cestino della propria bicicletta con cui si aggirava nella zona di Lambrate. Lo spacciatore ecologico, tra virgolette, ha precedenti dello stesso tipo e già nel 2016 era stato arrestato mentre spacciava a bordo del car sharing, quindi non usa mezzi propri. Gli investigatori della Narcotici della squadra mobile avevano ricevuto la segnalazione di un corriere che effettuava consegne di grosse quantità di droga spostandosi appunto su una bici. Alle 18 di ieri gli agenti si sono imbattuti in via Ampere, precisamente, in un ciclista che corrispondeva alla descrizione che stava percorrendo contromano la via. Nel cestino l'uomo italiano di origine eritrea aveva un sacchetto di plastica del supermercato in cui erano nascosti i tre chili di marijuana. Nel suo appartamento poi sono stati recuperati altri 30 grammi della stessa sostanza. Va avanti la procedura di concordato preventivo per la Galimberti, catena di negozi a marchio Euronis, che però è assolutamente estraneo a tutto, che comprende 11 punti vendita tra Lombardia e Veneto per un totale di 250 lavoratori impiegati. Il Tribunale fallimentare di Milano ha dato l'ok al piano di consolidamento dell'azienda che ha offerto garanzie, tra cui la vendita di un immobile per circa 9 milioni di euro. Durante l'udienza, all'esterno del Tribunale, nuovo presidio dei sindacati per chiedere che i lavoratori coinvolti vengano tutelati al massimo. La parola ora aspetta all'Assemblea dei creditori, che si terrà a fine novembre e che dovrà esprimere anche lei un parere su questo piano. Cambiamo argomento, passiamo all'autonomia, al governatore Fontana, che anche oggi ha parlato e non ha avuto parole tenere per la posizione del nuovo governo. Al ministro Boccia rinnoverò la proposta di andare avanti nel lavoro che già è stato fatto, così il presidente della regione, Attilio Fontana, oggi a Milano, parlando dell'incontro, il programma il 24 settembre, col ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, sul tema dell'autonomia. Sull'autonomia ho letto talmente tante sciocchezze, le continuo a leggere, ha sottolineato il governatore Lombardo. Fontana si è scagliato contro il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che aveva detto che il progetto di Lombardia e Veneto spaccava il paese. C'è un ministro del Sud che sta scrivendo delle cose irraccontabili. Adesso loro evidentemente hanno questo piccolo problema, che devono cercare di giustificare il sì all'autonomia, perché la chiede Bonaccini. Allora hanno creato questo mito di un'autonomia buona e un'autonomia cattiva, ma voglio dire, il mondo è fatto da tanti ingenui. Fontana ha ribadito a suo dire che prima di parlare si devono leggere i documenti. Li abbiamo fatti agli stessi tavoli e con gli stessi interpreti. Quindi credo che soltanto chi non ha letto niente o chi è in palese malafede può fare queste affermazioni. E chi ve li chiederà, rinnoverà la proposta insomma? Io rinnoverò la proposta di andare avanti nel lavoro che già è stato fatto. Anche perché ha chiusato in serata, nel tardo pomeriggio Fontana, l'idea di ricominciare, se boccia dovesse dire, si ricomincia a discutere di tutta la proposta e tutto il percorso, sarebbe la pietra tombale sull'autonomia, ha detto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto la sua rispetto alle parole di Attilio Fontana, riproponendo anche la questione legata a regioni e grandi città. Sentiamolo. Io penso che il tema dell'autonomia sia ineludibile, perché la gente vuole, i cittadini vogliono ragionare su altre formule e territorialmente spesso sentono maggiore contatto con la politica. Quello che ho sempre contestato è che l'indirizzo fosse solo, ha perso lo sviluppo delle regioni, su una situazione complessa. Io credo che il modello a 20 regioni sia un modello non di successo. Insisto, in tutto ciò, devono entrare anche le grandi città, perché le grandi città possono svolgere un loro luogo. Quindi credo che si debba parlare di autonomia, credo che la via che era stata presa non era per me l'ideale, disponibile a ragionarci. Sabato 14 settembre verrà inaugurato il Centro Pime, interamente restaurato e rinnovato negli oltre 1200 metri quadri dei suoi spazi. Domenica alle 10.30 la messa e la benedizione dei locali presiedute dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Il Centro è stato presentato in anteprima durante una conferenza stampa e per noi c'era Anna Maria Braccini. Una realtà bella, luminosa, funzionale, multispazio e multimediale, che è una finestra aperta sul mondo, un luogo di incontro e di scambio, un agora di conoscenza reciproca e di riflessione. Tutto questo sarà da sabato prossimo, per l'esattezza con le manifestazioni in programma, tra il 14 e il 15 settembre e la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo domenica alle 10.30, il nuovo spazio del Pontificio Istituto delle Missioni Estere a Milano, in via Monterosa 81. Chiusa la sede romana, il Pime torna quindi per intero nella città e nella diocesi, dove tutto è cominciato 90 anni fa. Il centro è stato illustrato nella conferenza stampa, in cui è stata anche proiettata una videointervista inedita dell'Arcivescovo di Milano su globalizzazione e missione. Io credo che la globalizzazione sia una impresa, un'operazione, una situazione che ha carattere economico, culturale e che tende a livellare il mondo in una sorta di omogeneità uniforme. La missione, che pure ha gli orizzonti universali, invece suggerisce di valorizzare le culture locali. In oltre 1200 metri quadri del centro trovano spazio il già apprezzatissimo Museo Popoli e Culture, arricchito e ampliato, una videoinstallazione, senza dimenticare la caffetteria, voluta per immaginare un luogo culturale, dove con l'atmosfera di un locale pubblico sia possibile incontrarsi e ascoltare testimonianze, musica e riflessione. E ancora la libreria Pime Store, il teatro, che propone un nuovo cartellone di appuntamenti di qualità per esplorare il mondo missionario, e la biblioteca, ricca di un patrimonio di 43.000 volumi. La serata su Terrenova prosegue all'insegna dello sport, tra poco il calcio con Nova Stadio, o meglio prima il nostro notiziario sportivo e poi Nova Stadio in versione sprint, con Michele Marchetti e i suoi ospiti che affronteranno i temi della giornata in vista del campionato che tornerà nel prossimo weekend, e poi i motori dopo la sbornia rossa di Monza con Gigi Vignando e la sua griglia di partenza da parte mia. Buona serata a tutti, non cambiate canale, state su Telenova. Grazie. Grazie.